L'equipaggio è un'avventura, eccola lì, staccata in questo momento, all'interno della Corsia Bons, segna questa una chiusura della loro prontica. E' uniamente, poco dopo, tutti per esperanza nella Corsi Bons. Grazie a tutti. un'attività di passare qui stiamo con la Fons che sta concludendo la sua prova speciale e Michele Ollini minchia come è fredda e puoi ma finchia che fredda che corrono quest'edizione del rally ci sono generalmente niente ci sono gli organizzatori del Milano Rally Show come Beniamino Lopresti che è proprio un metrino che ha andato da tre anni a spiegato Beniamino Lopresti e con la spiegazione in questo momento in Beniamino Lopresti e con la spiegazione la spiegazione si può andare con il primo cammino di dove l'asco bella la... la... la finale per andare a questo più i i le Stiamo andando verso la parte alta Questa è una cosa che la testifica è intanto anche la Porsche di cui avevamo parlato La 911 C7C della Minotti, oltre un po' Ha terminato Eccolo, Eccolo, Eccolo La 911 C7C della Minotti, oltre un po' 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 Alla comanda E' l'altra che inizia Eccola la prima vettura a parire E' proprio la R3 Ciro Clio inizia così La settima prova anche per le vetture moderne E loro dovranno effettuare Adesso è il giro della pista giornale E poi proseguire per 7 volte Il giro della Rallying Experience E' un piccolo fiore di Filippo Gremitieri Anche qui si parte Per farvi capire quante scivolose in questo momento Anche qui si parte Grazie. 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 Non si accende più la macchina, non è che la venda. Ah, non è che la venda. Sì, no. 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 Vabbè, ma io non starò più bene. Non molto. Vai, vai. Arrivo, vai. Vai, vai. Vabbè, vai. Vabbè, vai. Sì, no. Sì, no. Vabbè, niente. Questo questo ne esce. Poi che è entrato è già uscita. Guardalo. Come lì. Vabbè, niente. Poi, sì. Buon appetito. E' la mano con il centro. E' la mano con il centro. E' la mano con le corche. E' la mano con le corche. Grazie 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 a tutti. 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 Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.